Nonno! Ma come sei cresciuta? È sempre un piacere tornare qui. Uno, due... Ti volevo dire che stasera c'ho una sorpresona per te. Che sorpresa? Che tipo di sorpresa, signor Lorenzo? Vado a pulire un po' i quadri. Noi dobbiamo svecchiare questo paese, Don Michele, liberandolo di tutto ciò che c'è di polveroso. Ciao! Ciao Tidoro! Lei è Serena? Finalmente vi incontro. Vuoi far parte della nostra famiglia? Vuoi sposarmi? Sto digitando Serena Camerigo su internet. Zero risultati. Se fosse una truffatrice. Allora, se posso dire la mia? No, no, no! Ma cerchiamo Bambino Gesù, eh? Eh, lo guardi. Bambino Gesù è così. Vabbè, gli facciamo fare... Che cosa? Ponzio Pilato, eh? Ponzio Pilato. Te la senti? Non si usa sposarsi il giorno di Natale. Prima ci ha tolto il prosepa e adesso l'albero. Beh, lei è stata lavorare una certa Serena. Non ha notato niente di strano? Io questo matrimonio non lo posso celebrare. Ma certo che posso celebrarlo. Ma se posso dire la mia? No, non puoi. Io vorrei essere lì con loro e tu invece che saresti loro eroe tenesti qui a guardarli come una scema. Domani è Natale. Ah, ma non lo sapevo. Capisci perché mi sono innamorato di te? Posso dire la mia? No! Non puoi! Dai! Forza, fuori! Radio Italia, radio ufficiale. Radio Italia, radio ufficiale.